Allora, come sapete leggiamo oggi il canto 28 del Paradiso. Ormai siamo, vi ricordo, nel cielo nono o cristallino o primo mobile, quindi ultimo andando dalla terra verso l'Empireo, ultimo cielo fisico avvolto solo da amore e intelletto. Leggiamo qui, scusate che c'è qualcuno che ha il microfono aperto. Ecco, leggiamo dunque il canto. Poscia che incontro alla vita presente di misi mortali ha perso il vero, quella che è nella mia mente. Scusate, perché siamo nell'Alto Paradiso, non possiamo permetterci che i rumori involontari del mondo annebbino questa realtà veramente travolgente. Allora, di nuovo. Poscia che incontro alla vita presente di miseri mortali ha perso il vero, quella che imparadisa la mia mente, come in lo specchio fiamma di doppiero, Vede colui che se ne alluma retro, prima che l'abbia vista o in pensiero, e se rivolge per vedersi il vetro, gli dice il vero, e vede che il s'accorda con esso come nota con suo metro, Così la mia memoria si ricorda, che io fece riguardando nei begli occhi, onde a pigliarmi fece amor la corda. E com'io mi rivolsi e furon tocchi, li miei da ciò che pari in quel volume, quandunque nel suo giro ben sadocchi, un punto vidi che raggiava lume, Caputo sì che il viso che li affoca chiuder convienzi per lo forte acume, e quale stella par quinci più poca, parrebbe luna allocata con esso, come stella con stella si colloca. Forse cotanto quanto pare appresso allo cignar di luce che li dipigne, quando il vapor che li porta più è spesso, distante intorno al punto, un cerco digne si girava siratto, Che avria vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne, e questo era ad un altro circunscinto, e quel dal terzo, e il terzo poi dal quarto, dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. Sovrasseguiva il settimo sì sparto già di larghezza, che il messo di uno intero a contenerlo sarebbe arto. Così lottavo il nono, e ciasc'è d'uno più tardo si movea, secondo che era il numero distante più dall'uno, e quello avea la fiamma più sincera, cui mendistava la favilla pura, credo però che più di lei si invera. La donna mia, che mi vedea in cura, forte e sospeso, disse, da quel punto depende il cielo e tutta la natura. Mira quel cerchio che più gli è congiunto, e sappi che il suo muovere è sì tosto per l'affogato amore onde li è punto. E io a lei, se il mondo fosse posto con l'ordine che oveggio in quelle rote, sazio mi avrebbe ciò che mi è proposto. Ma nel mondo sensibile si puote vederle volte tanto più divine, quante le sono dal centro più remote, onde se il mio disirde aver fine in questo miro e angelico templo, che solo amore e luce ha per confine, o dir convienmi ancor come l'esemplo e l'esemplare non vanno d'un modo, che io per me indarno a ciò contemplo. Se i tuoi diti non sono a tal nodo sufficienti, non è maraviglia, tanto per non tentare, fatto sodo. Così la donna mia, poi disse, piglia quel che io ti dicerò se vuoi saziarti, e intorno da esso t'assottiglia. Gli cerchi corporai sono ampie arti, secondo il più element della virtute che si distende per tutte le loro parti. Maggior bontà vuol far maggior salute, maggior salute maggior corpo cape, se le alle parti ugualmente compiute. Dunque costui che tutto quanto rappe l'altro universo seco, corrisponde al cerchio che più ama e che più sape. Perché se tu alla virtù circunde la tua misura, non alla parvenza delle sostanze che t'appai o intonde, tu vedrai mirabile conseguenza di maggio a più e di minore a meno in ciascun cielo a sua intelligenza. Come rimane splendido e sereno l'emisferio dell'aere, quando soffia borea da quella guancia un dè più leno, perché si purve risolve la roffia che pria turbava, sì che il ciel ne ride con le bellezze d'ogni sua paroffia, così feci io, poi che mi provide, la donna mia del suo rispondere chiaro, e come stella in cielo il versi vide. E poi che le parole sue restaro, non altrimenti ferro di sfavilla che bolle come i cerchi sfavillaro. L'incendio suo seguiva ogni scintilla, ed erano tante che il numero loro, più che il doppiar degli scacchi, si milla. Io sentiva osannar di coro in coro al punto fisso che li tieni agli ubi e terra sempre, nei quai sempre fuoro. E quella che vedea i pensieri dubbi della mia mente, disse, i cerchi primi t'hanno mostrato Serafi e Cherubi, così veloci seguono i suoi vini per somigliarsi al punto quanto ponno, e possono quanto a veder son soblimi. Quegli altri amori che intorno li vonno si chiamantroni del divino aspetto, perché il primo tarnaro terminonno. Ed è il saper che tutti hanno di letto quanto la sua veduta si profonda nel vero in che si queta ogni intelletto. Quinci si può veder come si fonda l'essere beato nell'atto che vede, non in quel cama che poscia seconda. Ed il vedere è misura mercede che grazia partorisce e buona voglia. Così, di grado in grado, si procede. L'altro tarnaro, che così germoglie in questa primavera sempiterna, che notturno ariete non dispoglia, perpetualmente osanna sberna con tre melode che suonano in tre ordini di letizia onde si interna. In essa gerarcia son l'altre dèe, prima dominazioni e poi virtudi. L'ordine terzo di podestati è... Poscia, nei due penultimi tripudi, principati e arcangeli si girano. L'ultimo è tutto d'angelici nudi. Questi ordini di su tutti s'ammirano e di giù vinconsì che verso Dio tutti tirati sono e tutti tirano. Ed Ionisio con tanto disio a contemplare questi ordini si mise, che li nomò e distinse com'io. Ma Gregorio da lui poi si divise, onde si tosto come gli occhi aperse in questo cielo, disse Medes Morise. E se tanto secreto, ver proferse mortali in terra, non voglio che ammiri che chi vide qua su gli è il disco perse, con altro assai del ver di questi giri. Allora, forse vi siete accorti che per la prima volta in questo canto Dante tratta soffermandovi, sì, degli angeli. Finora avevamo notato che nel Purgatorio c'erano addirittura più angeli che non qui in Paradiso, vero? Perché lì avevamo visto oltre all'angelo portiere del Purgatorio anche ogni angelo che recitando una delle beatitudini evangeliche cancellava un P dalla fronte di Dante e supponiamo dei pellegrini in genere, dei penitenti. Poi avevamo visto degli angeli nell'Eden che lanciavano i fiori quando Beatrice scendeva, vi ricordate? Avevamo visto addirittura un angelo nell'inferno che era venuto ad aprire la porta della città di Dite per entrare nella quale Dante e Virgilio avevano trovato gli ostacoli dei diavoli, ma qui in Paradiso, oltre all'arcangelo Gabriele che avevamo visto circondando festoso la Vergine Maria, per ora non erano apparsi. E non è casuale che questo frammento lungo sulla presenza degli angeli avvenga appunto in questo nono cielo che i padri della chiesa chiamavano il cielo degli angeli. Allora Dante li vede qua. E quindi il canto inizia con un'allusione alla constatazione del male nel mondo e la profezia che aveva concluso il canto precedente. Vi ricordate che Beatrice, in contrasto con la stupenda bellezza del cielo, nominava la corruzione in terra, questi frutti che presto diventavano bozzacchioni, bambini che da piccoli osservavano le leggi, amavano la madre, invece crescendo subito si rovinavano. E quindi Dante appunto apre questo canto 28 con un riferimento alla fine di quello 27. Poscia che incontro alla vita presente di miseri mortali ha persi il vero, quella che imparadisa la mia mente, cioè dopo che Beatrice, quella che imparadisa la mia mente, che diciamo con un bellissimo ed evidente dantismo, cioè neologismo dantesco, dante rende al presente l'effetto beatifico della sua donna anche ora che sta scrivendo, cioè dopo che Beatrice aprì la verità contro la vita presente dei miseri mortali, verso quarto, come in lo specchio fiamma di doppiero, vede colui che se ne alluma retro, pria che l'abbia in vista o in pensiero, cioè come in un doppiere, cioè in un doppio candeliere, con due candele, colui che se ne illumina da dietro, vede nello specchio prima di averlo visto direttamente o addirittura di aver pensato alla luce, quindi come si vede prima il riflesso di una luce e non si è ancora vista la luce che c'è dietro e se rivolge per vedere se il vetro gli dice il vero e vede che si accorda con esso come nota con suo metro e quindi si gira per vedere se è questo specchio che era un vetro piombato, vero? Si gira per vedere se effettivamente gli sta dicendo la verità e vede che infatti questa immagine dello specchio si accorda con la verità come una nota con il suo metro, cioè come un canto con il suo ritmo musicale, così Dante, no? Soffermiamoci un attimo su questa prima analogia. Intanto osserviamo che ormai dalla prima terzina c'è un neologismo dei diversi che ce ne saranno nel canto, effettivamente questo è un canto che innalza lo stile in un modo notevole e mescola dantismi con forti latinismi, ma poi quest'immagine della visione diciamo di uno specchio in cui Dante si gira e conferma che effettivamente quello che stava vedendo era il riflesso di una luce che lui aveva dietro, intanto ci ricorda l'inizio del viaggio in paradiso quando Dante aveva visto i visi delle anime di queste donne che sono nella luna, no? Piccarda, Costanza e le altre che chiaramente con le quali Dante non parla ma che sappiamo che erano lì e le vede, vi ricordate, riflesse come se fossero riflesse, meno nitide di quanto non vedesse il corpo apparente delle anime del purgatorio e dell'inferno, per cui Dante aveva detto allora nel terzo canto che lui era caduto nell'errore opposto a quello di Narciso, perché Narciso aveva preso per vera la propria immagine riflessa sull'acqua e lui invece aveva preso per riflesso le immagini vere, le vere essenze di quelle anime, per cui si era girato per vedere che cosa stessero riflettendo, ma non aveva visto niente, quindi Beatrice un po' con condiscendenza aveva sorriso del suo puerilcoto, cioè del suo pensiero infantile, insomma, che continua a ragionare come ancora nel mondo. invece qua Dante è più esperto e invece di cadere direttamente nell'errore di Narciso paragona se stesso con colui che vedendo un riflesso si gira per vedere se lo specchio gli dice la verità e conferma che effettivamente c'è una corrispondenza tra un'essenza e il suo riflesso. la quantità di parole che Dante spende per riferirsi a questo suo atteggiamento qua rende molto significativo l'andamento del canto perché come vedremo più avanti ci sarà un parallelismo molto pregnante tra l'esperienza di Dante lì e quella di San Paolo e appunto questo vedere per speculum in annimmate è la condizione di Dante all'inizio del canto perché come ora vedremo Dante per la prima volta sta vedendo Dio riflesso prima e poi direttamente e alla fine del canto accederà direttamente a una verità che gli si rivela ormai faccia a faccia come dice appunto San Paolo. Allora per ora quello che sta succedendo è che Dante vede una luce intuisce giustamente questa volta che si tratta di un riflesso si gira e appunto vede che infatti c'è una luce vera dietro di cui lui ha visto ha visto il riflesso ma dove ha visto il riflesso ora arriva al verso decimo così la mia memoria si ricorda che io feci riguardando nei begli occhi che io feci come quello che vede il riflesso e poi si gira per vedere l'entità che si sta riflettendo contemplando nei begli occhi di Beatrice all'uso attraverso questa perifrasi i begli occhi attraverso i quali cioè di cui si servì l'amore come corda per prendermi. Chiaramente questo amor col maiuscolo è lo stesso amor divino lo stesso che come si dichiara nel canto 24 del Purgatorio va seguendo Dante come gli altri scrittoristi il novisti va seguendo nel dettato e quindi diciamo Beatrice è riconosciuta qua ricordata come con lei che fu inviata al mondo affinché la carità l'amore di Dio attraverso la sua bellezza e più in particolare i suoi occhi lo prendessero, adescassero Dante verso l'amore di Dio. Quindi si sta unendo in qualche modo l'infanzia di Dante il fascino che esercitavano questi occhi con la vera causa di questo fascino che è appunto il riflesso di Dio in loro, in questi occhi e quindi Dante vede riflesso, io mi sto anticipando Dio non lo sappiamo ancora ma lo starete intuendo lui vede un doppio lume perché appunto i due occhi di Beatrice riflettono questo punto unico che quando Dante si girerà vedrà come un punto luminosissimo Dio e quindi in qualche modo è una scena questa che ricorda quella del grifone nel paradiso terrestre, vi ricordate che questo mostro, questo animale di due nature in parte leone, in parte aquila che è quello che diciamo porta il carro che rappresenta la chiesa dove appunto Beatrice come rappresentante della teologia, questo grifone che è simbolo di Cristo, Dante negli occhi di Beatrice lo vede a volte con natura natura diciamo di leone a volte con natura di aquila e questo rappresenta la doppia natura di Cristo che in terra nel paradiso terrestre l'uomo rappresentato chiaramente da Dante può vedere solo specchiato dalla teologia e non direttamente quindi Dante vede che il grifone non cambia natura ma negli occhi di Beatrice lo vede cangiante così come ora negli occhi di Beatrice vede due lumi e quando si gira vede invece che è un solo punto appunto per la prima volta Dio visto direttamente quello che si riflette negli occhi della sua donna e quindi al verso 13 e com'io mi rivolsi e furono tocchi i miei, cioè i miei occhi no? da ciò che pare in quel volume quando dunque nel suo giro bensa d'occhi cioè e non appena io mi girai e i miei occhi furono toccati quindi da quello che qui Dante generalizza appare in quel volume, in quel nono cielo ogni volta che si guardi bene nel suo giro quindi sta generalizzando la sua esperienza un punto vidi che raggiava lumi acuto sì che il viso che gli affoca chiuder conviensi per lo forte acume allora vidi un punto che irradiava una luce talmente intensa che gli occhi che egli accende, cioè che riempie di fuoco è necessario chiudere per l'eccesso di luce quindi un punto luminosissimo, acceccante che è quello che evidentemente Dante ha visto riflesso negli occhi di Beatrice e per rendere in un modo paradossale come ogni cosa diciamo del paradiso che sorprende Dante per il suo contrasto con quello che succede al mondo per rendere il contrasto tra questa luminosità estrema e la misura piccolissima indivisibile e incommesurabile di questo punto Dante fa uno dei soliti paragoni al verso 19 e quale stella parquinci più poca parebbe luna locata con esso come stella con stella si colloca cioè è anche la stella che di qua giù si vede più piccola messa accanto a quel punto sembrerebbe la luna e cioè è tanto piccolo quel punto che diciamo eccede in piccolezza anche la stella più piccola del mondo cioè che si vede dal mondo chiaramente Dante sta già intuendo anche perché è molto in alto ormai nel suo viaggio che quel punto luminosissimo è tuttavia piccolissimo e che paradossalmente avvolge in amore intelletto l'intero universo di cui lui sta toccando il limite che è appunto il cristallino è Dio e immediatamente vede attorno a questo punto come accennavo prima gli angeli che come aloni che diciamo che si vanno dilatando in misura progressivamente man mano che si allontanano dal centro circondano infuocati questo punto allora leggiamo i versi che descrivono questi cerchi concentrici che sono gli angeli verso 22 forse cotanto quanto pare appresso halo cigner la luce che il dipigne quando il vapor che il porta più è spesso distante intorno al punto un cerchio digne si girava siratto che avria vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne allora forse con la stessa distanza con la quale appare vicino alla luna un alone un halo che dipinge di luce la zona attorno con il vapore che ha attorno a sé quando è più spesso più compatto forse con la stessa distanza attorno a quel punto che Dante sta guardando un cerchio digne cioè di fuoco detto con un latinismo girava attorno al punto così veloce così ratto che avrebbe superato avrebbe vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne cioè quel movimento che cinge cioè avvolge più velocemente il mondo cioè quello stesso nono cielo o cristallino dove Dante si trovava allora quindi qui c'è diciamo una prima analogia che poi sarà importante ricordare per capire la risposta che darà Beatrice a un dubbio complicato di Dante c'è una prima analogia tra quel primo cerchio piccolino di fuoco che gira velocissimo attorno al punto che è Dio è il nono cielo quello più ampio che è il più veloce nel girare attorno alla terra va bene Dante li mette in rapporto ora attraverso un paragone dicendo che la velocità del giro infuocato attorno al punto supera la velocità del primo mobile che è il movimento maggiore dei cieli attorno alla terra ma poi vedremo che oltre a questo rapporto diciamo retorico c'è un rapporto nella realtà di questo fuoco e del movimento di questo nono cielo o cristallino o primo mobile lo vedremo più avanti finora fino al verso 27 ha descritto il primo cerchio che gira attorno al punto ora al verso 28 e questo era ad un altro circuncinto e quel dal terzo e il terzo poi dal quarto dal quinto il quarto e poi da sesto il quinto cioè come diciamo incrustati uno dentro l'altro diversi aloni finora ne hanno nominati sei girano attorno progressivamente allontanandosi dal punto e al verso 30 vedete come ora si vanno dilatando pure i versi che descrivono questi giri che sono sempre più ampi sopra seguiva il settimo si sparto già di larghezza che il messo di giun intero a contenerlo sarebbe arto cioè al di sopra del del sesto giro seguiva un settimo cerchio di fuoco così esteso in larghezza che iride il messo di giunone cioè un arcobaleno tondo sarebbe insufficiente troppo stretto per contenerlo quindi si vanno ingrandendo in un modo insomma che supera ogni cerchio che noi vediamo dalla terra ma non sono finiti al verso 34 così l'ottavo il nono e ciascheduno più tardo si movea secondo che era in numero distante più dall'uno e quello avea la fiamma più sincera cui mendistava la favilla pura credo però che più di lei si invera allora così l'ottavo e il nono cioè veniamo a sapere che i cerchi attorno al punto sono nove come nove sono i cieli che Dante ha percorso finora e non è un caso la coincidenza tra il numero dei motori angelici e quello dei cieli perché infatti ad ogni tipo di angeli che Dante sta vedendo come fuochi che girano attorno al punto che rappresenta Dio ogni tipo ogni categoria di angelo ha come funzione muovere come motore ognuno dei cieli fisici che girano attorno alla terra va bene cioè qui abbiamo come una una sorta di parallelismo tra il sistema fisico che voi avete diciamo sulle mappe del paradiso che obbediva diciamo al modello insomma antico e medievale con la terra come una un puntino scusate non appena ho detto immobile ho visto tutti voi immobili e ho capito che avevo un problema di connessione allora stavo dicendo che qui bisogna immaginare una sorta di disegno parallelo tra lo schema fisico che tante volte abbiamo visto disegnato con la terra in mezzo a un avvolgersi diciamo dei cieli attorno che sono niente di meno che i cieli che Dante ha visitato e che diciamo vanno progressivamente aprendosi in radio verso il più enorme che è quello dove Dante e Beatrice nel racconto si trovano ora cioè nel nono cielo che è il più ampio che supera che avvolge tutti gli altri cieli cioè quello delle stelle fisse quello di ogni pianeta dei sette pianeti che sono attorno alla terra fino a quello della luna che è quello più vicino quindi abbiamo un disegno con la terra in mezzo e tutti i cieli formati diciamo dalle orbite dei pianeti e poi dal cielo delle costellazioni e dal cristallino primo mobile ma ora in questo canto veniamo a comprendere che questo sistema planetario geocentrico che è la realtà fisica per Dante è in realtà una manifestazione visibile fisica e quindi imperfetta della realtà del paradiso che è fuori dallo spazio dal tempo e che infatti si discute molto se Dante stia vedendo fuori di sé nell'empirio oppure se ce l'abbia dentro la propria mente questo perché lui sta vedendo o con gli occhi o con la mente uno schema simile ma essenziale fuori dal fisico quindi uno schema metafisico in cui un punto centrale che è Dio è avvolto anch'esso da sette giri di fuochi scusate da nove giri di fuochi che sono le diverse categorie angeliche dalle quali dipende il movimento dei cieli fisici attorno alla terra va bene io premetto questo se avessi la lavagna disegnerei almeno malamente questi due sistemi perché ci permetterebbe il fatto di vederli capire di più questa loro analogia ma è importante avercelo nella testa o se voi ve lo volete ecco qualcuno mi fa vedere che è disegnato in qualche mappa ci sono delle edizioni che appunto portano questi due schemi perché ora Dante diciamo si domanderà come mai la velocità di questi cerchi di fuoco attorno al punto luminosissimo che è Dio hanno una velocità sconvolgente perché come viene detto appunto nei versi che abbiamo appena letto dal 34 al 36 ognuno ciasc'è d'uno si muoveva più tardo cioè più lento a seconda che era il numero distante più dall'uno lui ha appena nominato il primo cerchio il secondo il terzo il quarto fino al nono allontanandosi dal centro che è Dio quello che stupisce Dante è che più si allontanano dal centro e più lenti si muovono i cieli nel modo quindi opposto a quello dei pianeti che siccome debbono girare tutti attorno alla terra con lo stesso ritmo chiaramente dovendo ogni pianeta man mano che ci si allontana dal centro fare un percorso una circonferenza più grande chiaramente debbono essere sempre più veloci e non a caso Dante è nel nono cielo che è quello che avvolge tutti gli altri ed è quello che ci è stato appena ricordato quello che si muove più velocemente di tutti invece attorno al punto che Dio succede l'opposto più si allontanano i cerchi di fuoco dal centro più lenti sono anziché più veloci va bene e aggiunge Dante al verso 37 che quello che aveva la fiamma più pura più più sincera era quello che più prendeva la verità di lei cioè quello che distava di meno dal punto era quello che più prendeva verità sinvera e un altro neologismo e quindi è quello che appunto gira più velocemente cioè Dante sta stabilendo un collegamento tra la vicinanza al punto che è Dio la maggior verità di cui si nutre quel primo cerchio che è più vicino a Dio e la velocità maggiore con la quale gira appunto a causa di questa maggiore partecipazione della bontà divina ora non preoccupatevi che così come siete perplessi voi lo è anche Dante e qui domanderà anzi è già letto da Beatrice il suo dubbio in Dio e quindi siccome Beatrice appunto legge in Dio quello che Dante non sta capendo ora si mette a spiegare al verso 40 appunto Beatrice no la donna mia che mi vedea in cura forte sospeso cioè che vedeva che io ero fortemente attento cercando di capire come mai la velocità progressiva di questi giri è l'opposta a quella dei cieli si mise a dire da quel punto dipende il cielo e tutta la natura cioè conferma citando Aristotele che Dante ha letto anche attraverso Tommaso che è quel punto è Dio è quello dal quale deriva l'essere dei cieli e di tutta la natura della creazione e al verso quarantadue aggiunge Beatrice mira quel cerchio che più gli è congiunto e sappi che il suo muovere è si tosto per l'affocato amore ondelli e punto cioè osserva quel cerchio che gli sta più vicino cioè il primo cerchio di fuoco il più piccolo quello che Dante aveva paragonato a un alone di vapore e sappi che il suo movimento è così veloce a causa dell'amore infuocato che lo punge cioè questo questo verbo pungere che qui al verso quarantacinque alla voce massiva implica la violenza dell'amore di Dio che accende il primo giro ecco scusate io quando vedo che vi fermate nel mio schermo capisco che non state sentendo quindi faccio anche una pausa nella spiegazione allora stavo dicendo Beatrice sta spiegando che l'altissima velocità di questo primo cerchio che è quello più piccolo perché è quello che gira più vicino al centro la velocità altissima si deve al pungente intensissimo amore infuocato che lo accende per Dio che è il punto che è in mezzo e Dante comunque non ha capito quindi al verso 46 risponde e io a lei se il mondo fosse posto con l'ordine che io vegio in quelle rote sazio mi avrebbe ciò che mi è proposto ma nel mondo sensibile si può vederle volte tanto più divine quant'elle sono dal centro più remote cioè Dante si sorprende di questo contrasto che io vi avevo anticipato tra diciamo la maggiore velocità dei cieli fisici man mano che si allontanano dal centro e quello che sta vedendo che accade invece tra questi cerchi di angeli attorno a Dio che man mano che se ne allontanano in realtà girano più lentamente quindi dice se nel mondo l'ordine che io vedo in queste ruote fosse lo stesso quello che mi stai spiegando mi avrebbe convinto ma nel mondo sensibile cioè in quello che è questa parola sensibile è essenziale per capire il contrasto che adesso spiegherà Beatrice cioè nel mondo che viene appreso attraverso i sensi quindi il mondo fisico si può vedere che i giri le volte sono tanto più divine cioè veloci quanto sono più remote dal centro che è la terra onde dice il povero Dante al verso 52 onde se il mio disirde è avere fine in questo miro e angelico templo che solo amore e luce ha per confine udir convienmi come l'esempio e l'esemplare non vanno ad un modo che io per me indarno a ciò contemplo cioè per cui dice Dante visto che il mondo sensibile si comporta nel modo opposto a quello che stiamo vedendo attorno al punto se il mio desiderio deve essere appagato in questo ammirabile tempio angelico che è il cielo cristallino che ha come confine solo amore luce appunto amore intelletto di cui è fatto l'empireo mi è necessario udire ancora come l'esempio e l'esemplare cioè il cielo e il mondo non vanno ad un modo non si comportano nello stesso modo già che io per me stesso cerco di capirlo in vano non ce la faccio anche se contemplo sforzandomi e Beatrice quindi al verso 58 risponde se i tuoi diti non sono a tal nodo sufficienti non è maraviglia tanto per non tentare fatto sodo cioè se Beatrice diciamo abbassa un po' l'immagine Dante aveva detto contemplo quindi si era rivolto proprio alla più alta delle attività di conoscenza e Beatrice abbassa come al solito per ricondurre Dante alla piccola misura della sua ragione umana e parla delle dita che non sono capaci di disfare un nodo che è diventato molto duro allora dice se i tuoi diti se le tue dita non sono sufficienti per sciogliere un tale nodo non è da sorprendersi tanto per il fatto di non essere stato cioè non aver provato nessuno l'ha allentato prima è diventato sodo duro quindi diciamo attraverso questa terzina in qualche modo Beatrice annuncia la novità del problema sul quale nessuno ha provato insomma a fare luce e quindi è effettivamente difficile che Dante da solo con le sue povere forze riesca a scioglierlo e aggiunge poi al verso 61 così la donna mia poi disse piglia quel che io ti dicerò se vuoi saziarti e intorno da esso tassottiglia cioè prendi quello che io ti dirò se vuoi essere sazio e sulla base di quello che io ti dirò poi da solo assottigliati cioè usa la tua intelligenza sottile per continuare a ragionarci prepariamoci dunque a capire perché quello che adesso Beatrice spiegherà il rapporto tra questi due schemi quello della terra in mezzo e i cieli fisici che girano a tondo con una velocità sempre crescente man mano che ci si allontana dal centro e quell'altro schema che in realtà è quello originario quello metafisico quello delle idee di cui i cieli fisici e la terra sono solo un esemplare quindi l'esempio in cui Dio è al centro i motori angelici attorno in cui succede il contrario che i cieli che girano più centralmente più vicini a Dio girano più veloci di quelli che si allontanano dal centro quindi Beatrice al verso 64 gli cerchi corporai sono ampie arti secondo il più e il men della virtù che si distende per tutte loro parti maggior bontà vuol far maggior salute maggior salute maggior corpo cape se li ha le parti ugualmente compiute dunque costui che tutto quanto rape l'altro universo seco corrisponde al cerchio che più ama e che più sabe perché se tu alla virtù circonde la tua misura non alla parvenza delle sostanze che tappai on tonde tu vedrai mirabile conseguenza di maggio a più e di minore a meno in ciascun cielo a sua intelligenza allora parafrasiamo andiamo dal verso 64 no i cerchi fisici cioè corporali quelli dei pianeti sono ampi e stretti cioè più o meno ampi secondo la minore o maggiore virtù cioè capacità benefica che si distende in tutte le sue parti questo è una notizia importante che noi non conoscevamo finora e cioè che l'ampiezza dell'orbita dei pianeti dipende dalla maggiore virtù che ricevono da Dio vi ricordate che nel secondo canto del paradiso Beatrice aveva spiegato che i cieli andavano distribuendo progressivamente dall'alto da dove ricevono da Dio la virtù attraverso i cieli per farla arrivare diversificata al mondo questa spiegazione che Beatrice darà qua integra quella che ha dato nel secondo canto perché spiegherà come i motori angelici muovono quei cieli affinché si distribuisca questa bontà di Dio da cielo in cielo per farla arrivare al mondo allora sta dicendo che i i cieli fisici sono più ampi quanto più prendono della virtù divina e al verso 67 maggior bontà vuol far maggior salute cioè maggiore la virtù divina maggiore la salvezza che comportano e maggior salvezza cape cioè occupa richiede un corpo maggiore se le parti sono ugualmente distribuite cioè qui Beatrice attraverso quest'ordine della spiegazione sta dicendo non è che i cieli più grandi abbiano maggiore virtù ma che la maggior virtù che implica maggior salvezza nei cieli fisici ha bisogno di estendersi in una maggiore misura fisica perciò al verso 70 dunque costui che tutto quanto rape l'altro universo secco cioè questo cielo in cui siamo dice Beatrice che rapisce con sé tutto il resto dell'universo perché è appunto il primo mobile quello dove come abbiamo letto la settimana scorsa nasce il tempo e nasce lo spazio e quindi nasce il movimento questo primo mobile corrisponde al cerchio che più ama e che più sape cioè corrisponde al cerchio che come prima aveva detto di quello che più vicino nell'esempio a Dio quello che più si invera quello che ama di più e sa di più perché è più vicino a Dio più vicino tra virgolette perché come abbiamo detto quell'altro schema in cui vediamo gli angeli attorno a Dio è metafisico non è fisico e cioè qui sta stabilendo se noi avessimo disegnato questi due schemi sulla lavagna che al cielo più ampio fisico che è il nono cielo dove tante Beatrice si trovano ora corrisponde il cerchio più piccolo tra virgolette quello più vicino a Dio dei motori angelici che è quello che più prende verità e amore da Dio e al verso 73 perché se tu alla virtù circonde la tua misura non alla parvenza delle sostanze che tappai o tonde cioè se tu consideri la quantità di virtù di ogni cerchio e non consideri la apparienza tonde di queste sostanze ciò che si vede tu vedrai mirabile conseguenza cioè tu capirai che c'è una corrispondenza ammirevole dal più grande al più e cioè dal maggiore fisicamente a quello che vedi come più piccolo ma in realtà è quello che ha più virtù di Dio e da minore cioè dal cielo della luna che è quello minore in diametro e che dipende in realtà da quello che ha minore virtù perché gira attorno a Dio un po' più lontano e quindi vedrai come ogni cielo risponde perfettamente a ogni sua intelligenza cioè a ogni motore angelico che lo fa girare cioè quello che sta dicendo a Dante tu non devi ragionare in termini di misura perché la misura fisica è la apparienza attraverso la quale si presenta a voi mortali la maggior virtù che ha il cielo più grande e che deriva appunto questa sua maggior virtù dai motori angelici che girano vicino a Dio e quindi sono quelli che hanno maggior verità e maggior amore quindi capirai che è logico tra virgolette che la velocità diciamo degli angeli che girano attorno a Dio sia la più veloce e che corrisponda al cielo nono che è il più ampio ma questo non importa perché è quello che deriva più virtù da Dio degli altri e quindi gira anch'esso più veloce si capisce tenete presente che Dio che è chiaramente incomprensibile per noi Dante lo vede come un punto luminosissimo e infimo in misura ma anche quando seguendo il racconto saliremo all'empirio vediamo che paradossalmente è un punto che avvolge in amore e intelletto tutto il creato e quindi è immenso nella sua impossibilità di misurarlo e quindi se noi pensiamo che Dio è davanti agli occhi di Dante queste due cose apparentemente incompatibili ma beh dobbiamo rassegnarci che Dio è l'incomprensibile por antonomasia prima della salvezza no? Ma Dio viene rappresentato da Dante come questo punto infimo e anche con questa enormità non misura che avvolge l'intero creato che lui sta percorrendo nei cieli fisici capiamo anche che questo cielo nono che è il limite del tempo e dello spazio è quello che è più a contatto con Dio che è amore intelletto nell'empirio e quindi la maggior velocità di quel cielo non dipende diciamo da cause fisiche come Dante ha pensato ma dalla maggior bontà di Dio che riceve essendo nel limite con l'empireo e che quindi corrisponde con i cieli che nell'altro schema dove Dio anziché essere gigante è un punto con il cerchio angelico che gira più piccolo attorno quindi è logico tra virgolette che gli angeli che sono più vicini a Dio girino più veloci perché più affuocati d'amore e che il cielo che loro muovono sia quello che Dante vede più ampio e che si muove più veloce perché appunto più partecipe della bontà di Dio si capisce? si capisce? vedo che qualcuno piuttosto più che capire si rassegna è una spiegazione che richiede di una diciamo di uno sforzo un po' sovrumano nel senso che quello che Beatrice sta chiedendo a Dante Dante sta chiedendo a noi lettori e di non ragionare secondo quello che i sensi ci porgono e cioè la misura bensì alla virtù che è qualcosa di astratto e infatti Beatrice lo dice con un'espressione molto interessante perché al verso settantaquattro la parola misura misura era il modo in cui si chiamava il centimetro con il quale lavoravano i sarti e allora diciamo l'immagine è molto concreta quello che lei sta dicendo a Dante se tu la tua misura la la usi per misurare la virtù e non l'apparienza fisica la grandezza vedrai che corrisponde con la virtù del cielo quello del cielo fisico più grande con la virtù del cerchio più piccolo quindi è logico che noi che umanamente siamo abituati a ragionare sulla base dei dati che ci forgono i sensi proviamo veramente questo scarto tra la comprensione cui siamo abituati e quella che si richiede qua che è quella di considerare entità tradizionalmente associati da noi alla alla grandezza fisica come per esempio la velocità di abbandonare questo e capire la velocità come conseguenza della maggior partecipazione alla bontà di Dio è quello che rende ugualmente veloci ugualmente nel senso che sono i più veloci del loro sistema perché in realtà c'è stato detto che il cerchio di fuoco che gira attorno al puntino che è Dio è più veloce del primo mobile ma effettivamente c'è nella realtà un rapporto perché sono gli angeli che girano attorno a Dio che si vanno allontanando da lui e ricevendo sempre meno virtù perciò girano sempre più lentamente quelli che quando diciamo si travasano nell'esempio che è il mondo fisico danno luogo quelli che più prendono dalla virtù di Dio che sono quelli più vicini danno luogo ai 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 cieli più ampi che si muovono più velocemente come anche loro che essendo piccolissimo piccolissimi più accesi dall'amore di Dio si muovono anch'essi più veloci e quindi tra questi due schemi che io vi ho chiesto di disegnare nella vostra mente bisognerebbe stabilire delle frecce tra abbiamo qui il centro che è la terra con i cieli fisici tutti attorno qua il centro che è Dio con i cerchi di angeli tutti attorno ognuno di quei nove cerchi di entrambi i sistemi corrispondono a ogni cerchio dell'altro però in un modo inverso da quello che Dante percepisce come grandezza perché il cerchio più piccolo attorno a Dio sono gli angeli con più virtù che muovono il cerchio più ampio dell'altro schema è il secondo quello che è un pochino più grande che prendi un pochino di meno muove il cielo ottavo e quindi quello immediatamente successivo e così via alternando dal più piccolo dello schema che rappresenta Dio e gli angeli dal più grande verso il più piccolo nel caso dei cieli fisici che girano attorno alla terra si capisce ora un po' meglio bene allora Dante ha appena saputo dunque che ogni tipo di angelo cioè ogni intelligenza come vengono nominati al verso settantotto fa girare ogni cielo ma in un rapporto che apparentemente è inversamente proporzionale alla grandezza e Dante si ha capito perché evidentemente Beatrice spiega molto meglio di me e adesso al verso settantanove e seguenti ci dà un'immagine veramente splendida tra le più belle della commedia per dirci come la sua mente primo fuscata dal dubbio grazie alla spiegazione di Beatrice rimane limpida come un cielo sereno leggiamo questi versi che sono veramente incredibili come rimane splendido e sereno l'emisperio dell'aere quando soffia borea da quella guancia un deppiuleno perché si purga risolve la roffia che pria turbava sicché il cielo ne ride con le bellezze d'ogni sua paroffia così feci io poiché mi provide la donna mia del suo risponder chiaro e come stelle in cielo il versi vide mamma mia allora dice come l'emisferio dell'aria rimane splendido e sereno quando tira questo vento maestrale detto attraverso questa merifrasi quando soffia borea da quella guancia dove è più blando vi ricordate che le carte geografiche antiche ai quattro punti cardinali avevano il disegno dei di questi venti come bambini no pafuti da cui soffiavano vero e quando questi venti rappresentati come ragazzini che soffiano lanciavano l'aria da entrambe le guance nel caso del cielo del nord il borea il cielo boreale appunto viene la tramontana quindi il cielo il vento più rigido quello più freddo mentre invece se soffiava solo con una delle guance da nord ovest era appunto il maestro il 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 cielo maestrale che è più dolce meno rigido di quello quindi l'immagine è stupenda perché Dante ha voluto dire che come quando un vento pulisce le nuvole del cielo il cielo rimane puro e sereno così diventò la sua mente dopo la spiegazione di Beatrice ma siccome l'immagine del vento poteva essere troppo violenta per quello che lui aveva sperimentato ci dà quest'immagine del 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 vento più leno cioè più blando più dolce che mitiga la violenza dell'immagine no? con un con un vento potente ma cioè nonostante non freddissimo come rimane splendido e sereno quando tira il vento maestrale per cui si purga cioè si pulisce si risolve l'immondizia la scoria no? la roffia che prima turbava di nuvole il cielo in modo che il cielo ne ride cioè brilla sorridente con le stelle di ogni sua parocchia di ogni sua zona cioè con le bellezze di tutte le tutti i suoi settori così feci io vedete che Dante sta mettendo in rapporto dopo aver messo come poeta in bocca della sua donna un rapporto tra la virtù e i cieli fisici adesso sta mettendo in rapporto il cielo cioè il firmamento che è al di sopra di tutti noi con la propria mente cioè con qualcosa di interno così feci io poi che mi provide la donna mia del suo risponder chiaro una volta che mi diede la sua chiara spiegazione e come stelle in cielo il vero si vide cioè e la verità si vide dentro la mia mente come una stella in cielo che prima era nuvoloso è veramente un'immagine di una bellezza incredibile vero? facciamo allora la pausa allora riprendiamo ho visto come infatti mi era stato avvertito che state usando la chat per cose che non dovrei vedere e quindi ringrazio grazie Alejandra della sua gentilezza non aprirò quindi più la chat se avete dei dubbi per favore ditemeli a voce bene se non ce ne sono allora riprendiamo dal verso 88 abbiamo appena assistito alla chiarezza della mente di Dante dentro la quale probabilmente ebbe luogo la visione del punto come vi dicevo prima i dantisti non si mettono d'accordo su dove Dante stia vedendo il punto e questi angeli tutti attorno perché effettivamente non ci sono non a caso nel testo appigli per capire se vede tutto questo chiaramente non lo vede dentro lo stesso cielo dov'è perché Dio non è in un luogo non può essere circoscritto in un luogo ma lo sta vedendo diciamo attraverso il bordo trasparente del primo mobile del cristallino nell'empireo o è una ormai intuizione intima dentro la propria mente che ci viene suggerito tutti salvati e vedono dentro di sé anziché in un non luogo esterno non si sa continuiamo la lettura al verso 88 e poi che le parole sue restaro non altrimenti ferro di sfavilla che bolle come i cerchi sfavillaro cioè una volta che le parole di Beatrice finirono e Dante si sentì appunto illuminato da queste parole i cerchi che Dante sta vedendo infuocati attorno al punto sfavillano come ferro scandescente lanciando scintille e al verso 91 l'incendio suo seguiva ogni scintilla ed erano tante che il numero loro più che il doppiar degli scacchi si milla cioè ogni scintilla diciamo faceva derivare un incendio e le scintille erano così tante chiaramente sono gli angeli che il loro che il loro numero si milla cioè si protrae in migliaia più del doppiare degli scacchi qui Dante di nuovo che ha già fatto attraverso il verbo si invera si imparadisa anche si milla chiaramente è un neologismo sta facendo riferimento a una leggenda una favola secondo cui il re di Persia per diciamo pagare con gratitudine l'inventore del gioco degli scacchi gli aveva chiesto quale pagamento volesse l'inventore degli scacchi gli aveva detto beh un chicco di riso nel primo quadretto del insomma della tavola due in quello successivo quattro nell'altro otto nell'altro e così via e diciamo il re diciamo incautamente aveva un po' deriso questa pretesa credendo che fosse molto poco ma non gli bastarono diciamo tutte le piantagioni di riso del regno per pagare tanto si immilla se si va insomma moltiplicando geometricamente come nel gioco e quindi Dante dicendo che il numero degli angeli è incalcolabile ma finito sta partecipando attivamente a un dibattito appunto sulla quantità degli angeli e nel convivio aveva appunto detto la stessa cosa cioè che era un numero finito non infinito perché solo Dio è infinito ma incalcolabile e al verso 94 io sentivo Zannar di coro in coro al punto fisso che li tieni agli ubi e terra sempre nei quai sempre fuoro cioè io sentivo che da coro in coro angelico capiamo che ogni coro è formato dagli angeli che conformano ogni giro insomma torno al punto che cantavano Osanna a Dio cioè il punto fisso che li mantiene negli ubi cioè nei nei dovi no nel nel luoghi e li terra sempre nei luoghi in cui furono sempre perché appunto gli angeli creati sempiterni non cambiano mai il luogo e al verso 97 Dante ha già capito chiaramente che quel punto è Dio e che i cerchi di fuoco che girano attorno sono angeli e si starà domandando perché appunto era qualcosa che i medievali tenevano a sapere quale fosse la loro gerarchia e quindi al verso 97 Beatrice è quella che vedea i pensieri dubbi nella mia mente disse cioè che vedeva i pensieri dubbiosi della mia mente disse i cerchi primi t'hanno mostrato Serafi e Cherubi cioè i primi giri quelli più prossimi a Dio sono di Serafini e Cherubini così veloci seguono i suoi vimi per somigliarsi al punto quanto ponno e possono quanto a vedere sono sublimi cioè seguono i loro legami con il punto vimi è un altro latinismo per somigliarsi quanto possono al punto che circondano questo per che io ora da come ho parafrasato ho inteso come finale cioè con la finalità di avvicinarsi di somigliarsi il più possibile a Dio che perciò girano così velocemente qualcun altro l'ha capito con senso invece causale cioè perché si assomigliano tutto il possibile al punto e perciò girano così velocemente e poi Beatrice aggiunge e possono nella misura in cui sono sublimati nella vista cioè la loro possibilità di rassomigliare Dio è analoga alla quantità di visione di Dio che hanno noi avevamo già visto che la velocità del giro dipendeva dall'ardore di amore quindi qui velocemente quello che sta dicendo Beatrice una cosa che ha già enunciato nel canto sedicesimo e che ora si soffermerà dire con più chiarezza ma è che la visione la visione di Dio precede l'amore di Dio è la base della carità perché loro diciamo girano attorno per l'ardore di rassomigliare Dio e quest'ardore è tanto quanto è l'altezza della visione di Dio quindi della sua conoscenza chiaramente qui il verbo veder che è usatissimo in questo canto ha il senso di diciamo comprendere no di un vedere di una contemplazione chiaramente mentale intellettuale e al verso 103 quegli altri amori che intorno Livonno si chiamano troni del divino aspetto perché il primo Ternaro Terminonno e cioè e i terzi cioè i primi sono Serafini poi quelli un po' più lontani Cherubini i terzi sono Troni che finiscono il primo Ternaro cioè chiaramente i nove cerchi si dividono in tre perché il nove che era come vi ricorderete il numero di Beatrice nella vita nuova è il multiplo perfetto del tre che è il numero della Trinità quindi sono Beatrice per presentare questi angeli li presenta in tre Ternari il primo è fatto di Serafini Cherubini e Troni e al verso 106 ed è il saper che tutti hanno di letto quanto la sua veduta si profonda nel vero in che si queta ogni intelletto quindi si può vedere come si fonda l'essere beato nell'atto che vede non in quel cama che poscia seconda e del vedere è misura mercede che grazia partorisce buona voglia così di grado in grado si procede ecco che qui Beatrice sta scendendo sui particolari di quello che ha detto velocemente cioè che la visione precede l'ardore quindi riprendiamo dal verso 106 e devi sapere che tutti questi angeli hanno tanto diletto quindi godimento quanto la sua visione si sprofonda nella verità che appaga ogni intelletto quindi la verità di Dio quindi il gioire degli angeli dipende dalla visione dalla conoscenza di Dio quinci cioè verso 109 da qui si può capire come l'essere beati cioè la beatitudine la letizia si fonda nell'atto della visione e non dell'amore che asseconda la visione e conseguenza della visione vi ricordate che nel canto 26 quando Dante è stato interrogato sulla carità lui ha detto che amava Dio nell'estrema misura perché quando il bene viene compreso come tale immediatamente lo si ama anche lì diciamo era implicito quest'ordine prima si comprende la bontà e da questa comprensione dipende l'ardore di carità non come dice con polemica verso probabilmente i francescani che sostengono il contrario che la prima cosa è l'amore e poi la conoscenza al verso 111 non cioè l'essere beato non si fonda in quel che ama nell'atto dell'amore che asseconda quello della visione e del vedere e misura mercede cioè la quantità della visione dipende dal merito che partorisce la grazia e le buone intenzioni cioè nella misura in cui il merito e la grazia aprono l'anima e la dispongono alla visione poi nasce l'amore e da da esso a sua volta la letizia o la gioia così di grado in grado si procede cioè la grazia più il merito danno luogo alla visione la visione all'ardore d'amore e quello alla letizia dell'essere beati e dopo questa digressione diciamo al verso 115 Beatrice continua con la gerarchia degli angeli l'altro ternaro che così germoglie in questa primavera sempiterna che notturno ariete non dispoglia perpetualemente osanna sberna con tre melode che suonano in tre ordini di letizia onde si interna allora il secondo ternaro che germoglia così in questa primavera sempiterna che non conosce non primavera perché quando ariete è notturno è tutta la parte dell'anno appunto dove non è primavera che è quando è con il sole allora l'altro ternaro che germoglia qua in questa primavera sempiterna che non diventa mai inverno sberna osanna perpetualmente sbernare è il verbo che significa attribuito agli uccellini che cantano l'andar via dell'inverno solo che questi siccome non conoscono inverno cantano la fine dell'inverno perpetualmente osannando con tre melode si suppone che è una polifonia di tre melodie insomma fatte dai tre cori angelici che sono quelli che sono attorno a questi tre che ha già nominato che suonano in tre ordini di letizia per cui diventano si mescolano in tre e ora dirà quali sono al verso centoventuno in essa gerarchia sono altre de prima dominazioni e poi virtudi l'ordine terzo di potestati e allora le altre tre gerarchie sono dominazioni virtù e potestati che è qui diciamo bisogna fare un piccolo commento che capiremo alla fine del canto e cioè che qua Dante sta seguendo l'ordine dell'opseudo cioè Dionigi l'opseudo areopagita che in realtà oggi sappiamo che fu un neoplatonico del quinto secolo ma che l'epoca di Dante confondeva con un altro Dionigi che era stato discepolo di San Paolo perché faccio questo cenno qua di solito non mi soffermo molto nelle fonti quando non è rilevante ma in questo caso interessante quello che Dante come poeta sta facendo perché lui nel convivio aveva dato un ordine degli angeli che differisce appunto in questo secondo tarnaro dall'ordine di Dionigi che è quello che prende invece qua come confacente con la realtà del paradiso che lui visitò di persona perché aveva seguito l'ordine di Gregorio Magno quindi posteriore e ora vediamo che emerge da questa divergenza continuiamo avanti perché è molto interessante al verso cento ventiquattro poscia nei due penultimi tripudi principati arcangeli si girano e l'ultimo è tutto d'angelici ludi cioè nell'ultimo ternaro ci sono principati arcangeli e angeli che sono festivi ludi sempre e qua viene la parte che più diciamo io vi ho anticipato brevemente ma che più rassomiglia e integra il discorso di Beatrice del secondo canto del paradiso perché ora si dirà di ogni gerarchia angelica lo stesso che Beatrice in quel secondo canto aveva detto dei cieli e non è un caso perché appunto da questi ordini angelici dipende il movimento e la possibilità di trasmettere la virtù divina dei cieli verso la terra e quindi al verso centoventisette Beatrice continua questi ordini di su tutti s'ammirano e di giù vincon si che verso Dio tutti tirati sono e tutti tirano cioè questi ordini angelici tutti contemplano ammirati ognuno quello di sopra si ammirano e ogni ogni gerarchia vince quello di giù quello più basso in modo che tutti sono attirati verso Dio e tutti tirano gli altri quelli più esterni verso Dio quindi ogni cerchio angelico attira verso Dio quello superiore e è attirato da quello inferiore e ora appunto Dante si riferisce al verso 130 in bocca di Beatrice a questa divergenza tra la gerarchia stabilita da Dionigi che è quella vera che coincide con quello che lui sta vedendo nel cielo e quella che lui stesso aveva seguito nel convivio che era quella di Gregorio al verso 130 e Dionisio con tanto disio a contemplare quest'ordini si mise che li nomò e distinse comio cioè Donigi si mise in terra con tanto ardore di desiderio a contemplare questi ordini di angeli che riuscì a nominarli a distinguerli come sto facendo io dice Beatrice e quindi accorde a verità ma verso 133 ma Gregorio da lui poi si divise onde si tosto come gli occhi aperse in questo cielo di se medesmo rise cioè ma Gregorio poi si allontanò dalla visione di Dionigi e quindi stabilì un altro ordine per cui non appena aprì gli occhi in questo cielo sorrise del proprio errore questo è meraviglioso perché Dante immagina Gregorio come sbagliato ma che nella morte con condiscendenza si rese conto che quello che aveva scritto era sbagliato però e sorrise di se stesso in qualche modo è quello che se noi conosciamo il convivio Dante stesso sta facendo qua cioè aveva scritto nel convivio l'ordine che seguiva Gregorio e poi vede ah no era come dice Dionigi vero? e al verso 136 Beatrice aggiunge e se tanto secreto vero proferse montali in terra non voglio che ammiri che chi il vide qua su gli el discoperse con altro assai del ver di questi giri cioè e se un una verità arcana un vero secreto tanto secreto un mortale nella terra poter proferire non ti deve sorprendere si sta riferendo Beatrice chiaramente a Dionigi già che colui che lo vede qua su glielo discoperse con molto altro della verità di questi giri cioè quello che sta dicendo è che Dionigi lo ha appreso da San Paolo che secondo gli atti degli apostoli appunto aveva detto le verità che sono in cielo e quindi Dionigi diciamo intuisce una verità che per Gregorio era stata oscura perché ebbe la testimonianza diretta di Paolo che essendo stato rapito nel cielo aveva visto così questo è interessante perché diciamo di nuovo si sottolinea il parallelismo tra il viaggio di Dante e quello di Paolo perché lo stesso Dante andando in cielo poi raccontano i lettori come il vero ordine che lui stesso come autore del convivio non conosceva e perciò appunto per quest'ultima analogia con il viaggio di Paolo io all'inizio della lettura vi avevo ricordato questa condizione della conoscenza di Dio per speculum a enigmate come dice San Paolo a proposito di quest'immagine nella quale Dante vede riflesso il punto che Dio negli occhi di Beatrice e come invece dopo la spiegazione di Beatrice vede la verità aperta in cielo direttamente in una sorta di riassunto minimo di quello che gli capita come pellegrino in tutta la commedia vero? conosce come ogni mortale attraverso le sacre scritture la teologia le verità che sono medianamente conoscibili in terra ma alla fine del viaggio vedrà i misteri ultimi la Trinità e l'Incarnazione direttamente in Dio come appunto lo vide San Paolo qualche dubbio? bene lo rileggiamo allora oscia che incontro alla vita presente di miseri mortali che ha perso il vero quella che in paradisa la mia mente come in lo specchio fiamma di doppiero vede colui che se ne alluma retro prima che l'abbe in vista o in pensiero e se rivolge per vedersi il vetro gli dice il vero e vede che il s'accorda con esso come nota con suo metro così la mia memoria si ricorda che io feci riguardando nei begli occhi onde a pigliarmi fece amor la corda e come io mi rivolsi furon tocchi li miei da ciò che pari in quel volume quando dunque nel suo giro ben sadocchi un punto vidi che raggiava lume acuto sì che il viso che li affoca chiuder convenzi per lo forte acume e quale stella par quinci più poca parebbe luna locata con esso come stella con stella si colloca forse cotanto quanto pare appresso allo cignere la luce che il dipignere quando il vapor che il porta più è spesso distante intorno al punto un cerchio digne si girava siratto che avria vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne e questo era ad un altro circuncinto e quel dal terzo e il terzo poi dal quarto dal quinto il quarto e poi dal sesto il quinto sopra seguivi il settimo si sparto già di larghezza che il messo di uno intero a contenerlo sarebbe arto così lottavo il nono e ciasché d'uno più tardo si movea secondo che era in numero distante più dall'uno e quello avea la fiamma più sincera cui mendistava la favilla pura credo però che più di lei si vera la donna mia che mi vedea in cura forte sospeso disse da quel punto dipende il cielo e tutta la natura mira quel cerchio che più gli è congiunto e sappi che il suo muovere è si tosto per l'affocato amore ondelli è punto e io a lei se il mondo fosse posto con l'ordine che io veggio in quelle rote sazio mi avrebbe ciò che mi è proposto ma nel mondo sensibile si può vedere le volte tanto più divine quante le son dal centro più remote onde se il mio disir di aver fine in questo miro e angelico templo che solo amore e luce ha per confine udir conviemmi ancor come l'esemplare e l'esemplare non vanno d'un modo che io per me in darno a ciò contemplo se li tuoi diti non sono a tal nodo sufficienti non è maraviglia tanto per non tentare fatto sodo così la donna mia poi disse piglia quel che io ti dicerò se vuoi saziarti e intorno da esso t'assodiglia ricerchi corporai sono ampie arti secondo il più e il men della virtute che si distende per tutte loro parti maggior bontà vuol far maggior salute maggior salute maggior corpo cape se li allevarti ugualmente compiute dunque costui che tutto quanto rappe l'altro universo seco corrisponde al cerchio che più ama e che più sape perché se tu alla virtù circunde la tua misura non alla parvenza delle sostanze che tappai o intonde tu vedrai mirabile conseguenza di maggio a più e di minore a meno in ciascun cielo a sua intelligenza come rimane splendido e sereno l'emisferio dell'aere quando soffia borea da quella guancia un deppiuleno perché si purga risolve la roffia che pria turbava sì che il cielo ne ride con le bellezze d'ogni sua paroffia così feci io poiché mi provide la donna mia del suo risponder chiaro e come stella in cielo il versi vide e poiché le parole sue restaro non altrimenti ferro di sfavilla che bolle come i cerchi sfavillaro l'incendio suo seguiva ogni scintilla ed erano tante che il numero loro più che il doppiar degli scacchi si milla io sentiva osannar di coro in coro al punto fisso che li tieni agli ubi e terrà sempre nei quai sempre fuoro e quella che vedea i pensier dubbi della mia mente disse i cerchi primi t'hanno mostrato Serafi e Cherubi così veloci seguono i suoi vini per somigliarsi al punto quanto ponno e possono quanto a veder son soblimi quelli altri amori che intorno li vonno si chiaman troni del divino aspetto perché il primo tarnaro terminò no ed è il sapere che tutti hanno diletto quanto la sua veduta si profonda nel vero in che si queta ogni intelletto quindi si può vedere come si fonda l'essere beato nell'atto che vede non in quel cama che poscia seconda ed il vedere è misura mercede che grazie appartorisce buona voglia così di grado in grado si procede conoscano i due penultimi tripudi principati arcangeli si tirano all'ultimo e tutto da angelici ludi questi ordini di su tutti s'ammirano ed i giuvin consì che verso dio tutti tirati sono e tutti tirano e Dionisio con tanto disio a contemplare questi ordini si mise che li nomò e distinse com' io ma Gregorio da lui poi si divise onde si tosto come gli occhi aperse in questo cielo disse medesmo rise e se tanto secreto ver pro verse mortali in terra non voglio che ammiri che chi vide qua su gli discoperse con altro assai del ver di questi giri grazie ci vediamo la settimana prossima arrivederci che